L'importante quando si parla di impianti sportivi è ricordarci che lo sport unisce e non divide. Su questo assioma dobbiamo gestire la vicenda del San Paolo e degli altri impianti sportivi per evitare che questa vicenda scivoli in una guerra o in una presa di posizione di una parte contro l'altra. Sullo Stadio San Paolo mi auguro che a breve venga sottoscritta questa benedetta convenzione e si possa andare avanti per migliorare le condizioni di un impianto importante e per riaffermare i valori dello sport in una di quelle che è la più importante manifestazione sportiva della nostra città che è appunto il calcio Napoli. Ma mi preoccupano tanti altri impianti della città come lo Stadio Collana. Sullo Stadio Collana spero che quanto prima si faccia chiarezza perché un impianto che è stato affidato a una società privata che è Laggiano non è stato ancora materialmente preso in consegna e si stanno cercando degli escamotaggi dal mio punto di vista per evitare che questa consegna avvenga. Allora lo sport vale sempre e in tutti gli impianti sportivi ancora di più in un impianto come il Collana, lo Stadio della Resistenza che da mesi purtroppo è chiuso ed è ostaggio della burocrazia, dell'incompetenza e a volte anche di una certa imprenditoria che non vuole evidentemente fare il bene dello sport. La situazione del San Paolo l'abbiamo ascoltato è dall'assessore che è dalla relazione che puntualmente ha fatto d'altronde lui lavora in sinergia con la mia commissione abbiamo una commissione che è attenta a tutti i problemi credo che adesso con l'avvento delle universiadi e con i soldi postati possiamo finalmente ricomporre tutte le cose di cui il San Paolo aveva bisogno dai sedioline ai bagni all'illuminazione e quindi renderlo di nuovo quello stadio dagli antichi splendori sicuramente gli attriti della società vengono da una parte dei lavori ma gli attriti della società sono un po' storici il presidente non è mai stato molto appassionato della napoletanità e di quelli che esprimono i tifosi del Napoli Napoli nella città è una storia a parte c'è bisogno di sentirla nel cuore per far sì che le cose vadano avanti